Sfida a salvezza al macera di Rappalo tra Ruentes e Settoria col padrone di casa penultimi a 16 punti gli ospiti, tre lunghezze sopra, gara che inizia con la traversa clamorosa di Nanio. Al decimo del primo tempo sembrano i Valligiani a essere partiti meglio, ma la Ruentes che va in vantaggio al quarto d'ora con Anzalone assistita alla perfezione da Via Cava. La reazione ospite però vemente e prima del duplice fischio arriva l'1-1 di Verducci al minuto 25, addirittura ribaltone direttamente su punizione con l'intramontabile Perino che sorprende della casa sul suo palo. Nella ripresa ti aspetti la reazione della Ruentes e invece arriva l'euro-goal di Nanio che sembra chiudere il match così come sembra riaprirlo la Ruentes perché a metà frazione va dal dischetto ma va caro, calcia male, Tovani pare. E allora la gara si chiude ufficialmente a 10 dal termine quando Verducci si inventa un cucchiaio fantascientifico che oltre a far trovare i tre punti per il Torriglia è un passo decisivo per la servezza Ruentes che comunque rimane in corsa.